Oggi vi presentiamo la prova comparativa a Trenale Tornado 1.530. Andiamo qua. No, 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 no. Ecco, abbiamo sentito il frastuono, il rombo di tuono di questa Benelli Tornado 1.130, uno special direi che come base abbiamo un arrovo completo in titanio, possiamo vedere escludendo le pedane posteriore abbiamo potuto realizzare questo fantastico scarico completamente artigianale, possiamo notare le saldature, la valvola sullo scarico e abbiamo dovuto eliminare le pedane per alzare il finale posteriore, poi possiamo notare i cerchi in magnesio della Brembo, ottima qualità, tutto impiantistica Brembo, con tanto di tubi aereo nautici, pedane arretrati in alluminio, abbiamo l'ammortizzatore sistemato sul telaio, come possiamo vedere l'ammortizzatore, il sistema che hanno approvato adesso in Ducati con la nuova Panigale 1199, dopo 5 anni di riuscita della Benelli Tornado, la frizione è carter secco, possiamo notare, l'impianto frenante abbiamo la chicca di questa moto, che è un Brembo seriora da 330 mm, con attacco radiale, pinza in magnesio e tubi aereo nautici, mentre per quanto riguarda le sospensioni anteriore abbiamo delle fantastico forcelle Morzocchi da 51 mm, ecco, perfetto, abbiamo una pinza radiale da 21 mm, completamente regolabili, poi che dire altro, lascia tutto dire a sé, esprimete la vostra opinione.